Buongiorno a tutti, conferenza stampa pre-gara, prima di campionato Serie A 2022-2023, è la Sferona Napoli, lunedì allo Stadio Bentegodi, ore 18.30, cominciamo pure la conferenza stampa con mister Gabriele Cioffi, Simone Antolini, Larena. Ciao mister, è un antivigilo, comunque molto strano per quello che è accaduto con la morte di Claudio Garella, però te domando, agli 11.000 fedelissimi che hanno già sottoscritto l'abbonamento, in un momento difficile, di perplessità, dove il mercato non ti ha dato ancora a quello che ti ha dato, qual è il primo pensiero che vuoi, approcciando questa partita, estendere a tutti? Il primo in assoluto che ho promesso ai ragazzi di fare è le più sentite condoglianze alla famiglia Garella, Destino ha voluto che sia venuta a mancare una partita che ha più significati, perché ha vestito entrambi le maglie, per quello che lui ha fatto, e quindi un sincero abbraccio alle più sentite condoglianze da parte nostra. Per quanto riguarda la tua domanda, mi hai fatto venire in mente un episodio che è successo esattamente a fine partita, quando dopo due o tre tifosi adulti mi si sono avvicinati, mi è venuto un bambino vicino, e mi ha detto mister non mollare, ti puoi immaginare dopo la partita che c'è stata, ma mi ha seccato la lingua. Io voglio dire a quel bambino che il mister non molla, che il mister non fa passi indietro e che si va avanti, e quello che tu mi chiedi di dire è quello che penso veramente, che se ogni componente che fa il club, giocatori, staff, tifosi, non rema dalla stessa parte, abbiamo un grosso problema, perché stiamo andando in battaglia, una battaglia che deve avere come armi l'umiltà, il sacrificio, e la sofferenza, ma di tutte le componenti, perché dico umiltà da parte nostra nel lavoro, ma anche da parte di chi ama il Verona, di capire che battaglia stiamo affrontando, una battaglia che si chiama salvezza, e quindi c'è solo da essere uniti, perché ogni fischio, per qualsiasi motivo venga fatto, ci allontana dall'obiettivo, c'è da compattarsi, e da portare alla salvezza il Verona, insieme. Matteo Fontana, Corriere di Verona e Gazzetta dello Sport. Ecco mister, allora ti chiedo come ci arrivate con la testa e con le gambe a questa partita, debutto contro una squadra che naturalmente non penso ci sia molto da aggiungere su quello che è il Napoli, anche se come tutti in fase di costruzione, come sta il tuo Verona per questo match dopo questa settimana? Parlando di calcio, il Napoli che affrontiamo è un Napoli che non è in costruzione, nel senso che ha una grandissima qualità, una squadra di palleggio, una squadra, come mi ha detto una volta un mio amico, devi scegliere se la panca o la corda, capito? In ogni caso casca in piedi, ha una media realizzativa altissima, e quindi noi ci aspettiamo un Napoli frizzante, di palleggio, di volontà e che vuole chiudere la partita subito. Come la prepariamo noi la partita, non credo il mio focus non è stato né tecnico né tattico, io mi ricordo bene quello che ho detto, perché la settimana mi aveva portato a dire che noi avremmo fatto la prestazione. In realtà ci sono delle componenti che non vanno sottovalutate. Se ha un campione fatto, rodato, che gioca in un top club, vede il proprio nome sbattuto sui giornali tutti i giorni, non fa caldo né freddo. Se un ragazzo del Verona, perché di tale si parla, che ha fatto del sacrificio, ha fatto dell'unione, ha fatto del DNA, che la città fa trasudare la sua forza, vede il suo nome sbattuto sui giornali tutti i giorni, ci sta che dia il 99,9%. Io credo fortemente che le partite si vincano per il mezzo centimetro, nemmeno il centimetro. E quel centimetro è l'essere totalmente devoto a ciò che stai facendo, sapere che è una questione di vita o di morte, che non c'è un piano B, eppure essendo professionale, i nostri sono ragazzi, non abituati a queste pressioni, e quindi scendi in campo e quando conta c'è quel 99,9%. Quindi io mi aspetto una prestazione d'orgoglio, poi tattica, tecnica, che vada da sé, orgoglio. Parlavi appunto della settimana, abbiamo visto una foto del club che è stata pubblicata via social, del nostro cerchio, dopo la partita con il Bari, alla ripresa degli allenamenti a Peschiera, e ti chiedo, mi l'hai già anticipato nella tua risposta precedente, che cosa hai cercato di dare ai tuoi giocatori, qual è la scintilla che hai messo dentro quel cerchio per accenderlo, e perché si va verso il calcio, quello con i punti, anche con il Bari erano i punti, però adesso il campionato è il grande obiettivo del Verona. Che nel calcio non ci sono crediti, i crediti, il calcio, nel calcio sono finiti, se non sbaglio, il 23 maggio, l'ultima partita di campionato, 21, sì, non è eseggiato un giorno dopo, mi pare, e quindi non ci sono crediti, non essendo crediti tutto ciò che è stato fatto, da loro, da me, dalla società Verona, è passato, c'è da accettare una realtà nuova, c'è da cambiare pelle, perché arriviamo da uno storico che ha sconvolto tutto, ma per tanti motivi, io che arrivo, che voglio continuare, il 3421, poi per esigenze di mercato si torna un 352, vanno via giocatori non programmati, e allora c'è questa sensazione di confusione, di poca chiarezza, giornali, nomi, cambia quello, cambia quell'altro, c'è da vedere anche da dove siamo partiti, e per quello ti dico, c'è da resettare, c'è da far blocco comune, e quando parlo di umiltà, riferita al tifoso, ma in senso buono lo dico, c'è da scordarsi il passato, perché adesso è un nuovo Verona, che non ha più obiettivo Coppa UEFA, come se fosse stato, che sarebbe andato, ma forse, no, si azzera, hanno zero, testa bassa, manica su, si lavora, calcio un po' più brutto, pazienza, giocatori meno bravi tra le linee, pazienza, hanno altre caratteristiche, e sono forti in quelle caratteristiche, e vanno accompagnati, da lì ti dico, che anche un solo fischio, fatto per qualsiasi motivo, non aiuta a vincere la guerra. Gianluca Vighini, Telenuovo. Ecco, abbiamo parlato, dei tuoi rapporti con la squadra, no, perché evidentemente, questo rapporto è molto importante, ma i tuoi rapporti con la società, come sono in questo momento? Che cosa è successo questa settimana? Io parlo, mi confronto, e dico quello, di cui il Verona ha bisogno, credo sia agli occhi di tutti, che c'è bisogno di 3-4 acquisti, due dei quali in difesa, e sono convinto che, la società fino al 31 agosto, non ci deluderà, ma io non voglio, non voglio essere portato via da questo, perché come ti ripetevo prima, se siamo in battaglia, per prima in battaglia bisogna essere noi, e se io chiedo ai ragazzi, orgoglio, e cancellare, non ascoltare, perché adesso ci sono dei fatti, da fare, non vedo perché, bisogna ancora parlare del mercato, di cosa può portare, di cosa io dico alla società, alla società io dico, quello che deve dire, nell'interesse del Verona, per il bene del Verona, e sapendo, che sono allenatore del Verona, e che se le cose non vanno, il primo ha uscito io, quindi, le cose le dico. Siccome si è letto di tutto, c'è avuto questa sensazione, di essere non più così saldo, sulla banchina del Verona? Ma no, vedi, no, nel senso, ti sorrido, perché ti sorrido, perché qualche volta, le notizie vengono buttate, per creare ancora più confusione, e destabilizzare un ambiente, o perché sono vere, in ogni caso, sia che la notizia sia stata buttata, da un giornalista, che non so chi, per buttare confusione, o perché è vera, a me poco cambia, perché io so che sono legato ai risultati, quindi, a me non mi fa, quando dico, né caldo né freddo, non è che voglio fare il fenomeno, però è la realtà, io devo vincere le partite, io sono qua per vincere le partite, io sono qua per ottenere risultati, grande serenità, lo accetto, e poi, giustamente, il giornalista fa il suo lavoro, che sia, come ti dicevo prima, fatto per creare confusione, o fatto perché è una notizia vera, a me poco importa, ma a noi non ci ha toccato questa cosa. No, ti volevo chiedere se te la, veramente, te la immaginavi realisticamente, anche per queste cose che ci stai dicendo oggi, in conferenza stampa, così difficili, insomma, o sta andando anche oltre, le previsioni, in questo momento. Allora, mio nonno mi ha insegnato una cosa, io l'ho riuscito sempre, perché ho un riferimento importantissimo nella mia vita, quindi scusatemi, se ve lo ripeterò 9600 volte da qui alla fine, mi ha detto, Gabriele, vedi, nella vita ci sono gli ostacoli, a casa nostra, sotto non si passa, perché si perde tempo, di lato non si gira, perché si viene squalificati, c'è una soluzione sola, saltarli. Adesso, se io mi trovo, ero finuto qui, con l'idea di avere un ostacolo di 1,40 davanti, adesso me lo trovo di 2,10 metri, non c'è problema, si cambia disciplina, non si fa più corse a ostacoli, si fa l'assalto in alto. Grande serenità, come ti ho detto prima, io a quel bambino rispondo, io non torno indietro, vado avanti, e non ho rimorsi. Alberto Fabri, è la Slive. Ciao mister, io ti chiedo, il tifoso, giallo-blu, è inutile girarci intorno, molto preoccupato, visto la situazione, l'esordio col Bari, è stato tu il primo a dirlo, che non eri contento della prestazione, soprattutto, oltre che del risultato finale. Se appunto c'è un po' di delusione e amarezza, da parte dei tifosi, ti chiedo qual è il tuo stato d'animo, a me sembra, invece, ti rispondo già io, che tu sia molto carico, e abbia soprattutto le briglie, ben salde, in mano della tua squadra. Allora, anzi, voi mi dovete fare, e mi potete fare tutte le domande che volete. Dopo una partita così, io avevo la priorità di vedere la partita, adesso sono tornato a casa, mi sono rivisto la partita, perché non ci credevo. Mamma mia, sei stato male anche te due volte, non sono stato io. Perfetto, e quindi, nella mia testa c'era quello, il fatto delle domande, quindi, mi scuso, però adesso, mi ripeti la domanda. Stato da amico tu. Ah, lo stato da, io non mi posso permettere il lusso di non essere centrato, perché dal momento che chiamo alle armi, armi virtuali, di umiltà, di sacrificio, di tutti, io come faccio ad essere destabilizzato? Io credo fortemente nel lavoro che faccio, ma tanto ci credo, credo nei ragazzi che ho, e quelli sono, e adesso è sbagliato dire arriva, non arriva, quello leva focus da alidi, no, siamo questi, la battaglia è questa, tifosi, che se sono al mare invito a tornare, perché ci abbiamo bisogno, giornalisti, staff, medici, magazzinieri, io faccio venire anche la mia mamma, allo stadio, quindi siamo proprio tutti, è una colpa sua, se non è, ovvio, giriamo subito le colpe da mamma, no, battuta parte, e parlando appunto di quello che tu ti eri prefissato, arrivando a Verona, ovvero questo 3-4-2-1, che poi, per varie motivazioni, è diventato questo 3-5-2, sei convinto sempre di andare avanti su questa strada, oppure c'è la possibilità, con un Cortinovis, magari su 3-4, con un Baracca, che adesso ha guadagnato, una condizione fisica migliore, magari di tornare alle origini, che in questi ultimi tre anni, insomma, abbiamo visto un grande calcio, e quindi magari, nelle corde dei tuoi ragazzi, c'è già questo modulo. Allora, grazie. Relativo alla domanda che mi fai, no, ti spiego perché, perché Simeone è un giocatore intenso, che ti attacca la profondità 200 volte, Kevin è un giocatore di profondità, che te l'attacca di qualità, non 200, 10, 12, la forza del Verona è stato il tra le linee, che te giustamente mi dici, cacchio, c'hai Cortinovis e Baracca, è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché le caratteristiche di guizzo, di imprevedibilità, di forza che aveva Caprari, non sono replicabili, ma al di là del Caprari, che adesso ti dico, si torna a passare il passato, non sarà più lo stesso Verona, quindi io invito anche voi, cioè, a dimenticarsi, perché sennò siamo sempre a pensare a Juric, a Tutor, a Caprari, a Simeone, e non ci sono più, e non ci sono più, bisogna risettare, storia nuova, anno zero, si parte, qual è l'obiettivo? No, la guerra come si chiama? Salvezza, e da lì si parte, quando parlo di umiltà, parlo di umiltà anche in quel senso lì, se arrivo allo stadio con l'aspettativa di, e non sarà più, non c'è più, prima lo capiamo, prima si comincia a fare risultati, prima si comincia anche a scrivere, a tutelare anche i ragazzi, che non sono pronti a gestire certe pressioni, per lo storico loro che hanno, e prima ci si avvicina insieme all'obiettivo.